Nell'ambito dell'avvertenza degli ex dipendenti di Ritali, l'Aggiunta regionale, su proposta dall'assessora del lavoro Alessandra Zedda, ha stanziato 150.000 euro per il mantenimento e rinnovo delle licenze di comandanti e piloti collocati in cassa integrazione Naspi nel 2021 e 2022. Si tratta di un finanziamento aggiuntivo a integrazione degli accordi già sottoscritti che permetterà di garantire il mantenimento delle competenze del personale tecnico ex Ritali. Inoltre l'assessorato del lavoro attraverso l'Aspal avverrà una ricognizione dei comandanti e piloti di altre compagnie residenti in Sardegna alla data di attivazione degli ammortizzatori sociali per quantificare eventuali costi da sostenere per la formazione necessaria al rinnovo e mantenimento delle licenze e garantire così il rimborso per chi, pur in difficoltà, si fosse già attivato in autonomia. L'obiettivo resta quello di favorire una possibile ricollocazione occupazionale e salvaguardare le professionalità esistenti dato che il mantenimento delle licenze attive ha già consentito la partecipazione del personale a diversi screening selettivi che hanno portato a successive assunzioni, sottolinea l'assessore Azzedda. Le abilitazioni sono oggi nuovamente in scadenza ma in un momento in cui il comparto aereo appare in ripresa la perità delle licenze comporterebbe una grossa penalizzazione per questi lavoratori che risulterebbero non immediatamente occupabili, vanificando così tutti gli sforzi dalla Regione.